Ordonque, abbiamo visto questo video e adesso vediamo di discutere i nuovi modelli di cooperazione economica nel contesto della crisi globale, che è esattamente come si chiama la nostra prima sessione della seconda giornata di lavoro del forum. Voglio subito presentare i partecipanti alla nostra discussione, Timur Soleimenoff, che è il Ministro dell'Economia e della Politica Finanziare della Commissione Economica Euroasiatica, poi Alexander Schokin, Presidente dell'Unione degli Industriali e degli Imprenditori della Russia, poi il Direttore Generale di Tecnoclima, il signor Trento e stiamo aspettando ancora un altro nostro ospite, Mauro Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del gruppo Leonardo Finmeccanica. Mi auguro che durante la nostra discussione esso arrivi e si unisca a noi e risponda quindi alle nostre domande. Alexander Nikolaevich, se mi permette vorrei iniziare da lei e dal suo intervento, anche perché il contesto sarà più chiaro se parliamo sia di economia sia dei nostri desiderata reciproci. Cosa dobbiamo aspettarci, soprattutto per quanto riguarda la Russia, che soprattutto di questo parlava recentemente il Presidente Putin, ha detto molte cose interessanti, ma uno dei pensieri principali di sviluppo della cooperazione tra il nostro business e i partner in Occidente è la necessità di costruire delle linee tecnologiche e uno scambio di tecnologie, che è esattamente quello che stiamo aspettando, è esattamente quello che può aiutarci in questi tempi di crisi. La crisi riguarda tutti, da una parte è generale, dall'altra è specifica, perché per qualcuno la crisi è la riduzione dei tempi di crescita economica, per qualcun altro invece è una minaccia di rimanere tagliato fuori dalle tecnologie moderne. Allora, cosa dobbiamo fare oggi e in che contesto, cioè di cosa stiamo parlando? Prego.